esercizio spirituale per il mattino come vivere nello spazio della presenza ti ricordo che sugli altri miei canali crescita personale felicità benessere massimo tra maschera molto stima ti potrai abbonare anche abbonarsi è facile basta andare nella home page tastina abbonati che sta vicino al tastino iscriviti seleziona l'abbonamento che preferisci ma veniamo al tema esercizio spirituale per il mattino come vivere nello spazio della presenza allora intanto che cos'è lo spazio della presenza che cos'è un esercizio spirituale allora partiamo dall'esercizio spirituale perché alle volte si parla di esercizi spirituali cosa vuol dire questo vuol dire che noi siamo formati da una mente e da un corpo la mente ha diversi aspetti uno di questi aspetti è sicuramente un aspetto trascendente un aspetto spirituale cioè un aspetto che trascende quella che è la nostra vita nel mondo delle forme quindi noi possiamo trascendere trascendere vuol dire andare oltre il mondo delle forme entrare in un nuovo mondo che possiamo definirlo un mondo trascendente appunto pur un mondo spirituale un mondo energetico la nostra mente ha delle grandi capacità ad esempio pensate ai sogni mentre sogniamo noi entriamo di fatto in un mondo diverso in un nuovo mondo e che trasforma anche un po noi stessi noi siamo un cambiamento costante cambiamo costantemente cambiamo costantemente nel tempo cambiamo costantemente il modo in cui ci rapportiamo agli altri ma anche il modo in cui ci rapportiamo noi stessi quindi è davvero importante in questo in questa concezione diciamo imparare a vivere la nostra vita anche diciamo in modo consapevole questa dimensione perché questa dimensione non è che non la possiamo vivere però spesso non ne siamo consapevoli cioè chi è la nostra coscienza la nostra coscienza e la consapevolezza di noi stessi e quello di cui possiamo dire siamo consapevoli in questo momento in cui vi sto parlando ad esempio probabilmente molti di voi sono seduti su una sedia ma non sono consapevoli del contatto fisico tra loro la loro schiena i loro glutei e la sedia molti di voi in questo momento avranno delle scarpe ma probabilmente finché non ve lo dico non siete consapevoli della sensazione dei vostri piedi all'interno delle scarpe adesso che ve l'ho detto acquisite questa consapevolezza quindi la consapevolezza che la nostra coscienza l'io sono diciamo diventi consapevole delle sensazioni che sta provando altrimenti non è che non le prova ma queste passano a livello subliminale cioè di sotto dello stato della coscienza della consapevolezza cosciente e quindi perché diciamo in alcuni casi in alcuni casi è molto utile che le cose siano inconsapevoli se noi riuscissimo eliminare tutte le sofferenze rendere inconsapevoli stiamo molto meglio ci sono dei meccanismi difensivi che lo fanno però diciamo non portandoci sicuramente quello che noi vogliamo perché anche qua il meccanismo difensivo opera inconsapevolmente e ci sono situazioni in cui invece è molto importante diventare consapevoli di quello che ci succede essere consapevoli quindi significa vivere nello spazio della presenza questa è la consapevolezza ed essere e diventare consapevoli è il punto fondamentale per diciamo un'evoluzione una crescita spirituale quando parliamo di crescita spirituale cosa si intende beh si intende la possibilità di crescere appunto di migliorare di evolvere l'evoluzione diciamo il miglioramento è ovviamente soggettivo il presupposto di fondo è che il nostro spirito viva anche una dimensione di fuori del tempo sicuramente vive anche una dimensione temporale perché nella dimensione temporale è la dimensione della trasformazione tutto ciò il tempo se vogliamo è una misura della trasformazione tutto ciò che si trasforma a un tempo tutto ciò che non si trasforma è non è temporale quindi da questo punto di vista l'eterno diciamo quello che viene definito eterno è un qualcosa che non può cambiare non può trasformarsi resta sempre uguale e noi invece viviamo in un mondo che in continua e perenne trasformazione ma questa continua e perenne trasformazione non significa la fine delle cose significa semplicemente appunto la trasformazione e quindi anche noi sia il nostro corpo sia la nostra mente si trasformano continuamente il nostro corpo a un certo punto entrerà in stato di decomposizione o comunque insomma si trasformerà in modo tale da non mantenere più questo aggregato così com'è anche la nostra mente si trasforma continuamente e l'evoluzione cosa consiste consiste nel far sì che la nostra mente quindi il nostro spirito la nostra parte animica se vogliamo possa in qualche modo continuare ad avere una consapevolezza maggiore e una visione più corretta di quello che noi chiamiamo reale che trascende questa vita noi siamo anche nello spirito siamo in continua trasformazione quello che non si trasforma potremmo dire che è morto è eterno nel senso che non cambierà mai ma di fatto non non ha vita la vita è necessariamente deve avvenire attraverso la trasformazione e la trasformazione è ciò che noi chiamiamo tempo la misura della trasformazione e ciò che noi chiamiamo tempo quindi il primo esercizio spirituale per il mattino è vivere nella iniziare essere consapevoli perché noi spesso ci alziamo al mattino e agiamo in modo automatico cioè senza avere nessuna consapevolezza le persone si svegliano al mattino c'è chi si fionda in bagno si lavano i denti c'è chi si fa delle cose in modo automatico senza neanche pensare arriva al lavoro si concentra sull'esterno non e quindi pensa che ne so certo pensiamo magari pensa a quello che deve fare pensa che non so le scartoffie che deve compilare piuttosto che dipende poi dal tipo di lavoro chi non lavora penserà comunque ad altre cose sproiettiamo sempre sull'esterno in ogni caso abbiamo questa caratteristica di tendere a proiettare sull'esterno e non abbiamo quindi la consapevolezza il primo esercizio del mattino vuol dire portare i pensieri all'interno portare i pensieri sulla propria consapevolezza e quindi iniziare a renderci conto del nostro respiro diventare consapevoli iniziare a renderci conto delle sensazioni che ci dà l'essere l'esserci alzati iniziamo quando mangiamo facciamo colazione non so qualunque chi beve il caffè chi fa questo chi fa quello iniziare a diventare consapevoli del gusto proprio rendercene conto quando ci laviamo quando ci vestiamo diventiamo consapevoli non so dell'acqua sul nostro corpo della sensazione dell'acqua perché spesso le sensazioni che noi proviamo passano inosservate non ci prestiamo attenzione o comunque non ci prestiamo la giusta attenzione ecco quindi che il primo esercizio del mattino è prendere consapevolezza dell'esserci quindi ascoltarsi rendersi conto pienamente che siamo presenti e questo è fondamentale ci fa vivere in questo spazio della presenza che ci dà vita fondamentalmente e possiamo renderci conto che ad esempio siamo cambiati rispetto a ieri quali sono i cambiamenti che sono avvenuti come vediamo le cose oggi rispetto a ieri ecco questo è un esercizio fondamentale che fatto al mattino questa presa di consapevolezza presa di coscienza ci farà vivere al meglio tutta la giornata ovviamente dobbiamo iniziare a farlo tutte le mattine tutte le mattine prendiamoci qualche minuto per noi stessi ma in realtà possiamo farlo tranquillamente mentre facciamo le azioni quotidiane del mattino soltanto che cerchiamo di farle non in un automatismo che toglie vita ai nostri giorni noi dobbiamo imparare a dare non tanto dare giorni alla vita ma dare vita ai nostri giorni quindi la presa di consapevolezza farà proprio questo da vita ai nostri giorni ecco è questo che dovreste imparare a fare e la vostra vita migliorerà moltissimo e i vostri cambiamenti aumenteranno in modo positivo come la vostra mente evolverà in modo positivo bene se questo video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici iscriviti al mio nuovo canale esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco iscriviti anche a tutti gli altri miei canali Massimo Terramasco, crescita personale, felicità, benessere, amore, autostima e ti ricordo che sui canali in generale ti puoi abbonare basta andare nella home page, tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e ti ricordo che sul canale crescita personale con Massimo Terramasco ad esempio potrai fare l'abbonamento per partecipare alle live domande e risposte quindi fammi delle domande in apposite live alle quali io darò delle risposte vatti abbonare ciao a tutti